E' terminata la partita del campionato nazionale al 21 tra Domus Bresso e Fuzzle Monza. E' qua con noi il portiere del Monza mentre vediamo il suo rigore parato e altre azioni della partita a lui ti diamo un commento su questa gara. Allora, secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo concesso un po' troppo il secondo tempo e loro ci hanno infilato un paio di volte. La partita purtroppo... Siamo l'ultima per giocare, c'è per vincere, ma la prossima pensiamo all'Enfro e cerchiamo di vincere là. Grazie Pierluisi per l'intervista e ci vediamo alle prossime partite. Ok, grazie a te. Forza Fuzzle Monza! Ed ora passiamo a Massimiliano del Domus Bresso, oggi è autore di una bella tripletta, tra l'altro il suo esordio. Mentre rivediamo i tre gol a lui ti diamo un commento su questa partita. Questa partita è cominciata bene, nel primo tempo abbiamo giocato veramente bene, siamo andati in vantaggio 1-0, poi è ripeto il tempo, nel secondo tempo siamo entrati male, abbiamo giocato male, però per fortuna abbiamo fatto questi cinque gol e ci abbiamo portato in vantaggio. sulle scadere stavamo rischiando di perdere, però è andata bene. Sono felice per questo esordio per la tripletta, non sono cose che capitano tutti i giorni, sono felice. Grazie Massimiliano, ci vediamo alle prossime partite. Grazie mille, arrivederci.